Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha smascherato un sistema criminale tra Napoli e Rimini, confiscati beni per oltre 700 mila euro. Poi l'emergenza sanitaria, da lunedì il coprifuoco si sposta a mezzanotte, il coprifuoco che verrà abolito il prossimo 21 giugno. Parliamo poi dei finanziamenti in arrivo per i comuni con il progetto Rigenera Italia. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Luigi Gallo. Torniamo ad occuparci delle scuole. Questa mattina l'Istituto Falcone scauda un laboratorio dei piccoli dell'infanzia dedicato alle avventure di Pinocchio. In chiusura l'iniziativa di ieri pomeriggio a Stecca per rilanciare le start-up del territorio. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. I finanzieri dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Bologna e di Rimini hanno confiscato immobili, quote societari, rapporti bancari e compendi aziendali riconducibili a tre società ubicate tra le province di Rimini, Pesaro Urbino e Napoli del valore di 700 mila euro. I beni confiscati già sottoposti a sequestro ad aprile dello scorso anno erano nella disponibilità di un uomo classe 60 nato a Giuliano in Campania, Napoli, soggetto socialmente pericoloso considerato una figura di spicco nel panorama criminale della riviera Romagnola e in particolare delle province di Pesaro e Rimini. Gravato da numerosi precedenti penali quali bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, abusivo esercizio di attività finanziaria, violazioni penal tributarie e riciclaggio. Il provvedimento ablativo, finalizzato al recupero di beni illecitamente detenuti, rappresenta l'epilogo di articolate indagini economico-patrimoniali condotte dalle fiamme gialle dei nuclei di Polizia Economico-Finanziera di Bologna e Rimini, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Gli accertamenti hanno consentito di acclarare la pericolosità sociale del proposto attraverso la ricostruzione tanto dal suo curriculum criminale quanto degli stretti legami intessuti nel tempo con ambienti della criminalità organizzata campana e in particolare con il clan dei Mallardo, come emerso anche dalle dichiarazioni rese ad un collaboratore di giustizia. Le investigazioni patrimoniali hanno così permesso di accertare una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dal soggetto e dal proprio nucleo familiare e il patrimonio mobiliare e immobiliare della sua effettiva disponibilità. L'eccedenza è stata quindi sottoposta a confisca in quanto ritenuta il frutto di molteplici attività illecite. Italia è sempre più libera con contagi in diminuzione e campagna vaccinale che ormai corre spedita su tutte le fasce d'età. A breve il cronoprogramma annunciato dal governo lo scorso maggio muterà nuovamente spostando il coprifuoco da prima posticipato dalle 22 alle 23 alle 24. Da lunedì 7 infatti tutte le regioni gialle sposteranno l'orario del coprifuoco alla mezzanotte, eccezione fatta per le regioni che da lunedì passano in bianco, Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, i cui abitanti non avranno limiti di orario agli spostamenti sul territorio. Il coprifuoco salterà definitivamente in vista del 21 giugno, quando tutte le regioni saranno bianche. Alcune regioni potrebbero vedere anticipata la rimozione del coprifuoco riuscendo a diventare zona bianca entro il 15 giugno. Al momento la campagna, dati alla mano, si prevede possa passare in bianco solo il 21 maggio. Nel mentre i cittadini stanno lentamente tornando a riprendersi la loro normalità. Da lunedì coprifuoco a mezzanotte, cosa ne pensi? È importante per i magazzini, per la gente che magari rimane un po' di più versata. I contagi sono in diminuzione, si va verso la riapertura totale? Speriamo, ma io penso che ci dobbiamo mantenere calmi. Non esco proprio, sono cinque anni che non esco più di casa pomeriggio, quindi fanno bene. A mezzanotte va bene, ma oltre no. Da lunedì coprifuoco a mezzanotte, cosa ne pensi? Per me va bene, però dovrebbe anche andare, siamo noi che non facciamo niente di buono qua. I contagi sono in diminuzione però, si va verso la riapertura? Si va verso la riapertura, speriamo in bene, speriamo in bene. Da lunedì coprifuoco a mezzanotte, cosa ne pensi? È meglio che lo tolgano proprio, comunque già è qualcosa. Quindi lei va per una riapertura totale? Sì, sì, per forza, se no qua non viene nessuno, i turisti non vengono se la notte non possono andare a divertirsi un po'. Negli altri paesi vicini, Crescia, Spagna, Francia, mezzanotte non c'è più il coprifuoco, la gente se ne va di là. Qua non viene nessuno, noi già siamo al di sotto delle aspettative, capito? Io penso che coprifuoco l'indomani si deve togliere, appena avremo dei dati migliori che comunque si stanno vedendo. Vaccinazione a tutta forza, quindi perché ancora, capito? Secondo il mio parere, insomma, bisogna aprire per forza. Parliamo di mezzogiorno nel sud Italia, dove manca sia una digitalizzazione più avanzata, sia l'occupazione giovanile che i minimi storici. Il governo ha scelto di finanziare per i prossimi dieci anni, con 8,5 miliardi, misure per rigenerare i comuni. Che cosa significa? Costruire scuole, parchi, centri polifunzionali culturali, sportivi, riqualificare edifici fatiscenti. Sappiamo che il rifiuto chiama altro rifiuto, il vetro rotto chiama un altro vetro rotto. Se invece noi investiamo con queste misure, possiamo ottenere dei risultati. Ci sono 10 milioni, per esempio, per il comune di Torre del Greco. Se fa domande, domanda entro il 4 giugno. Premo il decreto rigenera comuni. Quanto può aiutare le nostre realtà urbane? Ma tanto. Noi abbiamo presentato, per esempio, in consiglio comunale già due proposte. Una è un parco urbano al centro della città, dove c'è la Santissima Trinità. Si può recuperare uno spazio che è in una fase di degrado e un boschetto all'interno di quell'area. Abbiamo presentato un'idea di un centro policulturale all'ex prefettura. Per questo ci vuole visione, ma anche una nuova generazione politica che sappia mettere in cantiere dei progetti dove le risorse per una volta nella storia ci sono, ma mancano le idee e i progetti delle amministrazioni. Entro quando la nostra città potrà accedere a questo rigenera comuni? Se presenta domanda entro il 4 giugno, naturalmente i fondi arriveranno per il 2021, ma ci sono anche i fondi per il 2022, per il 2023, fino a 8,5 miliardi. Ci vuole, ripeto, una visione, una capacità di avere delle idee che riqualificano la città. Perché sembra così difficile per la nostra città puntare proprio su questo patrimonio? Non c'è la cultura della progettazione. C'è una pubblica amministrazione in affanno. Questo perché negli anni, è vero che ci sono stati dei tagli, ma anche abbiamo avuto una pubblica amministrazione locale inerte nel riqualificare e nell'assumere. Basta pensare che il Comune si è affidato al bando della Regione Campania, poteva fare dei bandi più veloci locali e assumere più velocemente il personale. Perché le misure oggi per il turno sono sbloccate, si possono assumere e si possono fare le risorse. Invece, in questo caso, le cose sono andate molto a rilento. C'è un ulteriore investimento proprio per mettere in cantiere le misure del PNR sulla pubblica amministrazione. Si faranno delle call veloci per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Ci sarà possibilità. Se abbiamo una classe politica lungimirante che abbia la capacità di visione, di trasformazione della città e sia collegata con i fondi nazionali, con i fondi europei, non ragioni, in termini strettamente localistici per cui poi non prende le opportunità che ci sono tutti intorno. Giornata di laboratorio all'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco. Questa mattina gli alunni delle sezioni dei 3, 4, 5 anni della Scuola dell'Infanzia hanno presentato il laboratorio Geografia Emozionale e le avventure di Pinocchio. Un viaggio attraverso la fiabba di Pinocchio che proprio nel 2021 compie 140 anni. I bambini della Scuola dell'Infanzia dei 3, 4 e 5 anni del plesso Raffaele Scauda sono impegnati in un bellissimo percorso di geografia emozionale. Un luogo visto non soltanto per i suoi aspetti fisici, morfologici, ma il luogo che evoca emozioni, ricordi. I bambini lo fanno attraverso la storia di Pinocchio. Quest'anno Pinocchio compie ben 140 anni, il suo compleanno, e i bambini attraverso un laboratorio di geografia emozionale ripercorreranno quelli che sono i luoghi della storia e soprattutto le emozioni che prova Pinocchio all'interno di questi luoghi, dalla Casa di Geppetto, alla Pancia della Balena, al Circo di Mangiafuoco, al Paese dei Balocchi. Inoltre saranno impegnati in tre tipologie di laboratori. Il laboratorio per i tre anni, il laboratorio ludico, il laboratorio del Paese dei Balocchi, il laboratorio scientifico che coinvolge i bambini di quattro anni. Quindi, come dai prodotti naturali, ricaviamo i colori, il laboratorio della fata turchina, la fata turchina che indica appunto la magia, e infine il laboratorio linguistico che vede coinvolti i bambini di cinque anni. La festa della scuola dell'infanzia di oggi è all'insegna di una ripresa, all'insegna della ripresa delle attività didattiche in presenza, anche nella scuola dell'infanzia. I docenti hanno lavorato su quella che è l'affabetizzazione emotiva, oggi fondamentale in ogni percorso formativo. I bambini scoprono le loro emozioni, le conoscono, imparano a gestirle, lo stupore, la gioia, ma anche la paura, quella paura che nei mesi scorsi ha pervaso ognuno di noi. Ed è importante saper gestire ogni emozione. E quale abbinamento più felice è quello di abbinare, appunto, di collegare il vissuto emozionale con le avventure di un personaggio a noi sempre caro, Pinocchio. Le docenti della scuola dell'infanzia ancora una volta si distinguono perché hanno fatto una magia, hanno portato nel paese dei balocchi non soltanto i bambini, tutti i bambini della scuola, ma anche noi adulti. E per noi viaggiare nel mondo della fantasia non può fare che bene in un momento storico come questo. Explosiva Challenge 2021 Questo è il nome dell'iniziativa proposta dall'incubatore di imprese di Torre del Greco Stecca. Una sfida dedicata a coloro che hanno un progetto imprenditoriale nascente ed innovativo. Stecca, con i suoi partner, accompagneranno le start-up in tutto il processo di creazione del progetto fino al lancio finale. In palio alla start-up vincente, un percorso di incubazione e accelerazione presso Stecca e partner per un valore di 40.000 euro. L'idea è quella di stimolare il territorio con la valorizzazione di progetti imprenditoriali innovativi. Chiaramente lo facciamo anche un po' per stimolare la produzione imprenditoriale e la produzione di nuovi contenuti a favore delle imprese che hanno sofferto tanto la crisi sanitaria ed economica. E quindi abbiamo cercato di costruire un meccanismo che tiene dentro una serie di partner istituzionali e tecnici per accompagnare gli aspiranti imprenditori e le start-up nella costruzione di un progetto imprenditoriale sostenibile ed innovativo. Tra giugno e luglio avranno luogo una serie di workshop tecnici che hanno lo scopo di diffondere una serie di contenuti e di stimoli per i nostri aspiranti imprenditori. C'è un calendario di eventi che è possibile scaricare sul sito di Stecca e sulle pagine social dedicate all'iniziativa di Explosiva. E poi a settembre ci sarà una finestra dal 14 settembre al 14 ottobre per la presentazione dei progetti imprenditoriali. Saranno in particolare privilegiati, saranno selezionati delle proposte innovative con tecnologie dedicate alla learning machine, l'internet delle cose, l'intelligenza artificiale, progetti che siano già scalabili oppure già con l'interesse manifestato da parte del mercato e con competenze dimostrabili da parte dei team coerenti chiaramente con quello che è il progetto presentato. Non è la prima iniziativa che facciamo con Stecca ed è per noi molto importante perché tra l'altro insiste in un territorio dove noi siamo storicamente presenti, molti dei nostri studenti prevengono dal Vesuviano e da questa zona e quindi spero di trovare, anzi di far partecipare, di trovare poi tra i partecipanti numerosi dei nostri studenti del territorio. Il sistema delle nostre imprese guarda questa opportunità, la creazione di nuove imprese e appunto tante nuove idee che si mettono in circolo che per noi sono fondamentali. Ecco, noi ci auguriamo che oggi sia un giorno di ripartenza e faremo la nostra parte come Cossa del Vesuvio per assecondare questo processo. In questo periodo di pandemia abbiamo scoperto quanto è importante e quanto forse siamo anche arretrati su questo aspetto quindi iniziative del genere sono molto importanti per il territorio. Penso che è un'iniziativa molto interessante soprattutto per chi si aggiudicherà questa iniziativa quindi è un'occasione da non perdere. Il progetto sarà strutturato in due fasi. La prima che si svolgerà tra giugno e luglio dove si avranno tutti gli incontri prettamente tecnici per definire gli aspetti rilevanti dell'idea imprenditoriale, elaborare un piano economico, programmare strategie di marketing dedicate. Dal 14 settembre al 14 ottobre invece saranno scelti dalla commissione del progetto i dieci finalisti. Abbiamo registrato una posizione quarta tra le start-up più innovative e anche la seconda in ordine di graduatoria come Regione Campania per quelli che sono riusciti poi a realizzare fino in fondo come start-up il proprio progetto imprenditoriale. Quindi significa che l'investimento è stato importante e significativo e farlo qui a Torre del Greco attraverso l'incubatore di impresa stecca che in particolar modo tenterà di fare come accompagnamento alle imprese che vorranno cimentarsi con le idee innovative un focus su quelle che sono le eccellenze locali. La Campania è cresciuta tantissimo in questi ultimi anni, siamo la terza regione per numero di start-up e siamo la seconda regione per start-up under 30, quindi abbiamo delle start-up giovani oltre che tanti giovani. Torre resta un territorio molto dinamico, entrando dentro gli spazi di stecca si respira proprio una bella area nuova, tante energie e noi come Regione Campania sosteniamo moltissimo i nostri ragazzi, il capitale umano e la possibilità proprio di poterli accompagnare, insomma, diventare imprenditori di se stessi. Quindi è un'iniziativa che guardiamo con molta attenzione, che accompagneremo e sicuramente oggi, insomma, è l'in bocca al lupo che va a tutti i ragazzi perché possano, insomma, partire con dei nuovi percorsi che gli diano delle belle soddisfazioni. È una grande occasione, sono contento che c'è una realtà innovativa sul territorio che riesce a riunire le forze innovative della città perché sulle misure di start-up è stato fatto tantissimo dal governo nonché agevolato i finanziatori che scelgono le start-up da far crescere sul territorio quindi bisogna mixare benissimo il lavoro, la proattività che arriva dalle amministrazioni pubbliche quelle dalle realtà private e le linee governative che incentivano lo sviluppo di start-up innovative. Queste sono iniziative fondamentali. Ringrazio Giuliana, responsabile della Stecca, che porta avanti queste iniziative che avranno un corso che parte dal mese di giugno e finirà ottobre per dare la possibilità a delle idee innovative, in particolar modo anche di giovani e la migliore idea poi verrà premiata con un contributo. È il momento di dover ricominciare, di doversi muovere in particolar modo in quella che è proprio l'economia della nostra città, dei nostri territori, della nostra Italia e quindi è fondamentale questa idea che viene portata avanti dalla Stecca qui a Torre del Greco. Appuntamento con la proclamazione della start-up vincente fissato a fine ottobre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.